Ferragosto 2020, appuntamento piazza Bartolomeo Romano, ore 18.45, come sempre passeggiando Goffata Garbatella a Ferragosto per conoscere un quartiere speciale. 18.45, piazza Bartolomeo Romano, davanti al Teatro Palladium. Il quadro è di Walter Malandrini, proprietà privata. Il quadro è un quadro antico che viene da Burgosan Dalmat. Tre sorsi, tre desideri. Ci vediamo oggi alle 18.45. Ciao, ciao. Grazie a tutti.